La procura di Agrigento in Boca 41 rinvia giudizio nell'ambito dell'inchiesta antidroga Fish and Drug, ruotante intorno a Porto Empedocle. I dettagli. Lo scorso 24 ottobre è stato il giorno dell'operazione antidroga Fish and Drug. I poliziotti della squadra mobile di Agrigento e del commissariato di Porto Empedocle hanno eseguito 17 misure cautelari. Le indagini a cui ha collaborato anche la guardia costiera di Porto Empedocle sono state avviate nel maggio del 2019, quando è stato arrestato un empedoclino in possesso di circa 5 kg di Fish, su cui sono stati rinvenuti cristalli di sale. E si è sospettato che fosse stato in mare. Successivamente sono stati sequestrati complessivamente oltre 140 kg di Fish e denunciate 41 persone. Un beliero battente bandiera spagnola con a bordo due colombiani avrebbe trasportato alcune tonnellate di Fish, mollando poi il carico, perfettamente confezionato, a causa di un'avaria al motore tra Lampedusa e Porto Empedocle, ad una profondità di circa 200 metri. A recuperarlo con il sistema della pesca a strascico sarebbero stati alcuni pescatori empedoclini. In particolare avrebbero lavorato due motopescherecci gestiti dalla famiglia Volpe, in collegamento con la famiglia Fiore. Ecco perché l'inchiesta è stata intitolata Fish and Drug, ovvero pesce e droga. La scisce sarebbe stato poi venduto al dettaglio tra Porto Empedocle, Favara, Palma di Montechiaro, Real Monte e anche fuori provincia. Ebbene adesso la Procura della Repubblica di Agrigento tramite il reggente Salvatore Vella e la titolare dell'inchiesta Sara Barazzi ha depositato 41 istanze di rinvia giudizio sul tavolo del giudice per le udienze preliminari del Tribunale. I 41 in pendenza di processo che risponderanno il prossimo 28 giugno all'appello del giudice Micaela Raimondo sono Luigi Fiore, 27, Real Monte, Angela Volpe, 52, Real Monte, Stefano Sacco, 59, Porto Empedocle, Gerlando Fiore, 27, Real Monte, Vincenzo Bellomo, 31, Agrigento, Giacomino Gazzitano, 55, Agrigento, Francesco Salemi, 67, Porto Empedocle, Calogero Salemi, 64, Porto Empedocle, Fabi Rama, Tior, 73 anni, Senegal, Rosa Puccio, 52, Favara, Giovanna Gazzitano, 27, Porto Empedocle, Simona Fragapane, 26, Agrigento, Stefano Fragapane, 30, Agrigento, Roberto Fragapane, 29, Agrigento, Carmelo Fragapane, 51, Agrigento, Rosaria Riverso, 49, Agrigento, Salvatore Mantione, 52, Canica T, Salvatore Carlino, 32, Canica T, Salvatore Volpe, 33, Agrigento, Antonio Costa, 49, Canica T, Claudio Melli, 32, Agrigento, Antonio Garlisi, 36, Canica T, Cristian Terrana, 29, Raffa Dalli, Salvatore Papia, 51, Favara, Vincenzo Fallea, 44, Agrigento, Carmelo Colombo, 47 anni, Porto Empedocle, Calogero Colombo, 45, Porto Empedocle, Sergio Farruggia, 45, Porto Empedocle, Tiziana Messina, 40 anni, di Porto Empedocle. D'accordo.